Accordato in rito abbreviato per Giuseppe Garioni, 55 anni, l'ex presidente della società Il Torrazzo, accusato di violenza sessuale su minori, aggravata l'abuso di autorità, nonché di prostituzione minorile. Rigettata dal giudice per l'ugenza preliminare, la richiesta presentata dal pubblico ministero Carlotta Bernardini di effettuare una perizia psicologica sulle presunte vittime. Spunta anche una sorta di estrazione a sorte di bigliettini contenente ciascuno o un avanzo a una cifra in denaro, ma la difesa ha presentato dal canto suo un ampio e dettagliato fascicolo con testimonianza a favore di Garioni. L'accusa si basa invece su denunce precise, nonché registrazioni audio e video ritenute inequivocabili. La prossima udienza è stata fissata per il 21 marzo, già in quella sede o al massimo alla volta del 16 maggio potrebbe essere pronunciata la sentenza.